Quello che conta è il viaggio, poi se finisce con una vittoria meglio, altrimenti va bene lo stesso. Sembrerà per qualcuno antisportivo, ma questo concetto, espresso da Maurizio Sarri in un'intervista a Eurosport riguardante principalmente il ciclismo, non è altro che l'espressione massima della sportività. Vengono in mente le parole di Giannis Antetokounmpo, la questione del fallimento. Se non vinci, dopo aver dato tutto, dopo aver fatto il massimo e dopo aver dimostrato un alto livello di competitività, non è un fallimento. Ma non è un fallimento non perché non hai vinto, ma perché hai dato tutto. E quindi non si può dire perdere o non vincere non è un fallimento perché l'ha detto Giannis. Se non vinci senza aver dato tutto, senza esserti impegnato al massimo e senza aver dimostrato competitività, insomma, se perdi perché te lo sei meritato, beh, forse dovresti parlare di fallimento. Invece le parole di Giannis sono state distorte, travisate e strumentalizzate alla mercè dei risultatisti che invece di parlare coerentemente da risultatisti di fallimento per la mancanza del risultato hanno tirato in ballo il fatto che ogni tanto si può anche perdere. Invece il discorso che fa Sarri, che mutua proprio i concetti dal ciclismo, è completamente diverso. Parlando di sarrismo, infatti, dice una bellissima filosofia, per come è stata definita non da lui, ma da chi lo ha seguito con curiosità e passione, ma quasi sempre perdente. Però dice non è importante perché l'importante è il percorso, è il viaggio. Come nel ciclismo, appunto. Ecco, come si fa a dire che un ciclista che ha fatto una grandissima gara, una bellissima gara, magari con degli scatti, con degli allunghi, poi soltanto perché non taglia il traguardo per primo, ha fallito e dobbiamo quindi magari anche azzerare le emozioni che ci ha dato. Chi ha deciso che fa emozionare solo chi vince? Chi ha deciso che dobbiamo tralasciare tutto il resto? Forse i mediocri, forse i falliti, forse i frustrati, forse i perdenti nati, quelli che, appunto, badano solo al risultato, ma solo quando gli fa comodo. Quelli che sono subito pronti a deridere chi perde, ma prendono ogni esaltazione quando capita a loro di vincere. Per il resto, nello sport, in qualunque sport, conta solo, non principalmente, ma solo il percorso e il viaggio. Poi, naturalmente, il viaggio serve per vincere, serve per arrivare prima, ma il fatto di non riuscirci non significa che automaticamente è un fallimento. Mentre è un fallimento quando chi vince non l'ha meritato. Quindi, anche se vinci, puoi aver fallito se non sei stato il migliore, se non hai fatto il massimo. Questi sono i valori dello sport. Sarri, che oltre a questa intervista, ha anche partecipato alla lezione, anzi, ha, diciamo, offerto una lezione alla FIGC, al corso di Coverciano UEFA Pro, come aveva fatto in precedenza Massimiliano Allegri, e successivamente c'è stato anche De Zerbi. Impossibile sapere il contenuto della lezione di Allegri, della lezione di Sarri e della lezione di De Zerbi, possiamo però soltanto immaginare che il contenuto della lezione di Allegri sia stato meno interessante e meno formativo di quello della lezione di Sarri e anche della lezione di De Zerbi. De Zerbi che, tra l'altro, ha detto tornerò in Italia non sa di preciso quando, ma ha l'intenzione di farlo. Ecco, speriamo. Nonostante De Zerbi sia stato assolutamente calpestato nella sua bravura quando era in Italia, assolutamente disconosciuto, e adesso invece tutti inevitabilmente riconoscono che è ed era un grande allenatore. Nemo profeta in patria. Ma prima che De Zerbi torni in Italia, riuscirà, a proposito, Sarri a vincere di nuovo uno scudetto? Magari l'anno prossimo con la Lazio? Magari l'anno prossimo.